Ben ritrovati all'appuntamento con le previsioni di Trebimetro.com. L'anticiclone in rinforzo su gran parte dell'Europa protegge anche l'Italia, garantendo una domenica di bel tempo prevalente un po' dappertutto, ad eccezione però dalle estreme regioni meridionali, ancora alle prese con dubbio qualche acquazzone. Ma vedremo dopo le zone maggiormente coinvolte. Ora partiamo dalle temperature che saranno stazionarie nei valori minimi, ancora superiori alle medie del periodo. Per quanto riguarda i massimi, questi saranno in ulteriore aumento al nord sui settori terrenici, con punte quasi fino a 20 gradi in Valpadana, addirittura superiori sulla Liguria, vedete, dove si potranno anche superare appunto i 20 gradi. Per quanto riguarda le previsioni, al nord avremo una bella giornata di sole su tutte le regioni, quindi nulla da segnalare, se non qualche addensamento, soprattutto tra sera e notte sulle zone prealpine tra Veneto e Lombardia, per correnti un po' più fresche da est. Al centro, anche qui, giornata di sole prevalente sui settori terrenici, qualche nube in più potrà attardarsi sulla dorsale e lungo i settori adriatici, ma di poco conto e senza fenomeni. E infine al sud ritroveremo il tempo un po' più instabile, soprattutto sui settori della dorsale, quindi zone interne, sulla Calabria e anche sulla Sicilia, dove nel corso della giornata potranno svilupparsi acquazioni e anche qualche temporale sparso in trasferimento appunto dalla dorsale anche verso le coste. Mentre bel tempo prevalente sugli altri settori peninsulari è sulla Sardegna, dove ci sarà il sole per gran parte della giornata. Bene, per oggi è tutto, per maggiori dettagli consultate il sito trabimeteo.com. Grazie. Grazie.